ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché faccio un video al giorno oggi ti parlo di honda cb 500 x a bs travel al confronto con la voce valico 525 ds x sempre del 2023 naturalmente partiamo qui da un po di storia perché l'azienda bloncini nasce nel 1983 a shang king usate le pronuncia uno dei più grandi metropoli della cina centro-meridionale mentre il marchio voce che è un brand di loncin ed è con il stato cognato nel 2000 scusa 18 per sviluppare motociclette che si possono distingue per le prestazioni elevate e la tecnologia più avanzata la voce valico 525 ds x è una moto del genere adventure che piace molto al pubblico perché evoca i viaggi avventurosi ma ottima anche per il percorso casa ufficio per la sua protezione aerodinamica per la facilità di guida la valico si pone quindi in detta concorrenza con la onda cb 500 x mentre la stessa struttura e si presenta con un'estetica moderna molto interessanti sono le dotazioni tecniche come i cerchi tubeless la strumentazione moderna e due mappature del motore la prima la turismo l'altra più sportiva con il controllo di trazione quindi a questo punto vediamo la moto in questa bella immagine che la rappresenta e partiamo dal motore che è un bicilindrico da di 494 centimetri cubici la distribuzione bialbero 4 valvole per cilindro arraffredato liquido è una potenza di 48 cavalli 8.500 giri al minuto la coppia massima di 45 newton metri a 7 mila giri al minuto esteticamente la moto è molto bella moderna qualsiasi lato la si guardi a proposito vediamo ecco anche dall'altro lato il terraio formato da un traliccio tubi d'acciaio ad alta resistenza la sospensione anteriore affidato alla forciera della kayaba a steli rovesciati con diametro di stede 41 mm una corsa di 156 mm la selle alta 8 a 115 mm da terra posteriore invece siamo in presenza di un monotizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo i freni sono a disco della miss in anteriore doppio disco ben visibile a 298 mm mentre posteriore siamo in presenza del disco singolo al 240 mm molto belle le ruote a raggi con tubeless avevo detto verniciate in giallo sono 19 pollici all'interiore e 17 pollici al posteriore il serbatoio una capienza di 6,5 litri il peso secco di 194 kg con un peso contenuto rispetto ad esempio la trk che pesa molto di più quindi molto più basso della trk la velocità massima dichiarata di 160 km orari tra l'altro stato rilevata anche una velocità più alta di 180 km orari dalla rivista motociclismo e il prezzo è il prezzo di 5.990 euro quindi il prezzo uguale a trk con correnzia naturalmente rispetto a onda come ho già detto in altri video con i confronti ultima non ho trovato questa notizia che mette in difficoltà onda ma anche tutta la concorrenza parliamo adesso invece di onda quella qui in questa immagine e della cb 500 x che richiama storicamente le moto dedicato un utilizzo stradale viene destinata a un utilizzo turistico ma anche utilitarie grazie al tris di valigie parabrezza più alto si tratta di una moto molto semplice economica capace di adattarsi a tutti prima di tutto chi si avvicina per la prima volta a una moto di media cilindrata elemento fondamentale rimane il motore un bicilindico parallelo con la distribuzione otto valvole il raffreddamento liquido la potenza massima di 48 cavalli per la patente a 2 con una coppia di 43 newton metro per rendere la fila facile il motore bicilindri con linea raffreddato a liquido quattro tempi la cilindrata di 471 centimetri cubici la distribuzione è a doppia d'albera da cam in testa con quattro valvoli per cilindro il telaio un telaio tubolare in acciaio diamante la sospensione formata dalla forcera telescopica della show denominata sffbp gli stessi sono con la 41 mm regolabili il precarico della molla con corso di 150 mm il freno a doppio disco da 296 mm all'anteriore naturalmente quello qui il freno di generose dimensioni da selle alto 800 mm da terra posteriore invece siamo in presenza di un forcello in acciaio scatolato con il sistema pro link sistema che è regolabile il precarico su cinque posizioni escursione in questo caso della ruota di 135 mm il freno è a disco singola 240 mm ruote sono in lega leggera e sono da 19 pollici all'anteriore 17 scusa pollici al posteriore serbatoio di 17,7 litri il peso in ordine di marcia di 199 kg il consumo di 28,6 chilometri litro un buon consumo cioè basso anche però volge si colloca in questo ambito magari un po di meno qualcuno ha dichiarato 26 chilometri con un litro e un'altra prova è stato verificato 25 kg comunque siamo in questo ordine grandezza il peso il prezzo scusa è di 8.660 euro quindi un prezzo più elevato rispetto a quello di boge se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto dislike ma iscritti al canale e attiva la campanella primo grazie non ti costa nulla secondo faccio un video al giorno sei sempre giornata al giornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata